Allora, sono molto felice di avere oggi con noi Chiara Liberati. Chi è questa signora vestita col camice bianco? Ebbene, è un medico specialista in neurochirurgia, terapia del dolore, cure palliative ed è anche direttore sanitario della clinica CLEAN di Milano. Quindi, benvenuta, grazie di aver accettato di essere intervistata su un tema molto interessante per le persone che mi seguono. A tuo favore ti dico, Chiara, che ho creato Longibility qualche anno fa proprio con l'intenzione di cambiare un po' il paradigma concernente la seconda metà della vita, che per molti è una specie di anticamera semplicemente della vecchiaia, del lasciarsi andare e poi dello stadio finale della morte, ma sono convinto che invece potrebbe essere il periodo più interessante, più evolutivo di sempre, proprio perché dopo i 60 anni magari si è un po' più liberi dal lavoro, un po' più liberi dagli impegni familiari e quindi perché non dedicarsi alla propria evoluzione, alla propria coscienza, alla propria anima. E quindi quando ti ho incontrata e tra le righe ho letto che ti occupi non soltanto del corpo, ma anche della mente e dello spirito, ho detto questa dottoressa va assolutamente intervistata. Quindi grazie mille. Non so se vuoi aggiungere qualcos'altro al... Chiaramente ho detto solo una piccolissima cosa, ma se vuoi aggiungere qualcosa di favore del longevity, come le chiamo io, ben volentieri. Penso, innanzitutto grazie, grazie dell'invito che ho accettato ben volentieri e la presentazione è più che adeguata, nel senso che io sono estremamente curiosa, quindi negli anni ho cercato di approfondire una serie di aspetti, ma che erano inevitabili, nel senso vero del termine, input che mi arrivavano dai pazienti, con delle richieste, con delle curiosità, piuttosto che l'esigenza mia di poter offrire un servizio più idoneo, più adeguato in base al paziente che avevo davanti. Non potevo più permettermi di avere lo stesso approccio con qualsiasi tipo di paziente, dovevo in qualche modo diversificare. Quindi questa esigenza, unita poi alle varie domande da parte dei pazienti che stimolavano la mia curiosità, è stato un bel innesco e quindi varie, oltre ad essere neurochirurgo, insomma, ho portato avanti e sto portando avanti altre attività, altri interessi. Sì, infatti leggo sempre nella tua descrizione che per amare concretamente il prossimo non basta volerlo, ma sono necessari un ascolto attento e lo spegnimento di ogni pregiudizio. Solo così impariamo a praticare l'empatia, cioè a metterci nei panni dell'altro conoscendo i suoi bisogni, cosa lo fa soffrire, cosa lo fa vivere. E anche questo pensando all'effetto placebo e nocebo, dico sempre, a volte quando il medico ti dice una cosa è una sentenza, soprattutto se vedi il medico come Gesù Cristo, quando ti dice c'è qualche cosa è una sentenza, quindi il vero farmaco è già il medico. Già la parola. La parola, la parola, quindi complimenti per questi approfondimenti. Allora, il motivo di questa nostra intervista di oggi era il parlare di infiammazione, infiammazione cronica, quella che si chiama anche inflammaging, che è un misto di infiammazione e età. Vecchiamento età. Proprio ideale per chi ci ascolta, che in genere sono tutte persone che hanno più di 55-60 anni e mi sembra di aver compreso che è un tema in particolare per le persone un po' in età avanzata, che cominciano a accumulare un po' di questa infiammazione e non se ne rendono conto perché è un po' silente, però ha dei grandi effetti. Quindi comincerei magari col chiederti, vediamo un po', ho fatto una lista di domande perché non sono un pedico, quindi ho dovuto prepararmi. Se ci puoi spiegare brevemente che differenza c'è proprio fra l'infiammazione silente, cronica, e chi ne soffre maggiormente, e invece l'infiammazione classica, acuta. Quali sono le differenze? Parliamo di due ambiti differenti, non è soltanto acuto e cronico, hanno due importanze completamente differenti. Partiamo dal presupposto che l'infiammazione ci serve, fisiologica, ha la funzione di proteggerci, di difenderci da qualsiasi tipo di insulto esterno, banalmente la puntura di una zanzara, piuttosto che un evento traumatico, o una qualsiasi forma di aggressione che noi subiamo, interviene proprio un meccanismo fisiologico che è quella dell'infiammazione, definita acuta perché ha una durata temporale relativamente breve, che ha la funzione proprio di difenderci, di reagire nei confronti dell'evento traumatico, che ripeto può essere banalmente una puntura di insetto, piuttosto che qualcosa di più invasivo, e la durata è tale per cui all'aggressione c'è poi la risoluzione, quindi il tutto si ridimensiona, si ritorna alla normalità e questo ci consente di sopravvivere e di andare avanti nel nostro quotidiano. Cosa succede invece? Io ogni tanto interverrò, ti farò delle domande. Quindi la tipica febbre è un'infiammazione. Esatto, è un sintomo infatti. Ok, serve proprio per bruciare via virus e batteri. Rossine, fantazzo, assolutamente sì. Quindi quella è un'infiammazione acuta. Esattamente, la febbre infatti è la spia. Noi quando diciamo, ho la febbre, ma in realtà la febbre è una manifestazione, è un meccanismo che il nostro corpo mette in atto proprio per far fronte al batterio, al virus, bruciare proprio il fuoco, il calore. Il calore è uno dei momenti dell'infiammazione, rubor, tumore, calore, dolor e funzionalesa. Sono proprio le manifestazioni a cui si va incontro durante l'infiammazione acuta, che ripeto, è un evento fisiologico. Quindi è un qualcosa che non dobbiamo sopprimere perché ci serve per poter affrontare qualsiasi evento abbia perturbato la nostra integrità. Quindi da questo punto di vista è un qualcosa di assolutamente fisiologico. La stessa febbre, ovvio, non è che con questo voglio invitare a rimanere con 40 di temperatura oltranta, no? Però l'inizio, l'avvio della febbre va considerato come un meccanismo di difesa che il nostro corpo mette in atto. Il corpo è saggio. Il corpo è saggio. Dobbiamo ascoltarci di più da questo punto di vista. Uscire un po' da una medicina incentrata sul sintomo. Abbiamo da lavorarci da questo punto di vista. Sì, infatti ho letto da qualche parte, scusa, preparandomi per l'intervista, che c'erano già dei medici, ma già 150 anni fa, ma addirittura Ippocrate ancora prima, che diceva lasciate fare al corpo, cioè non intervenite troppo, no? Prendiamoci la responsabilità di nuovo, che il corpo è saggio e sa fare, senza delegare, continuiamo. Cioè, dobbiamo portare via il lavoro ai medici, cioè. Esatto, sì. Non delegare troppo ai medici, no? Ma infatti, guarda, se noi torniamo, e questo c'è, c'è un film del 92 che si chiama La crisi, che credo che sia proprio un problematico. Ci sono più scene dove viene proprio messa in evidenza nel dialogo tra due personaggi del film, dove si racconta del medico cinese, no? Che viene pagato quando mantiene la persona in salute e quindi vanno dal medico, non so, quelle quattro volte l'anno, che l'obiettivo è la famosa prevenzione primaria, quella che a noi attualmente ancora sfugge come concetto. e viene pagato se la persona rimane in salute, non viene pagato se invece si ammala, perché veniva considerato, no? Una sorta di fallimento, non avevi fatto il tuo dovere da questo punto di vista. Cioè, il totale ribaltamento della nostra invece di concezione che vede al medico quando sei male, no? Sì, sì, sì. Quindi è completamente, da questo punto di vista si è completamente stravolta e dobbiamo veramente tornare un attimo a darci il tempo di dare al nostro corpo il tempo di veramente di far fronte a un qualsiasi tipo di evento traumatico. Scusa Chiara, ti interrotto, stavi rispondendo alla domanda appunto. Sì, mancherebbe. Il acuto e il cronico, ecco, se ti lascio continuare. Allora, invece, quindi, se abbiamo questo concetto che l'infiammazione acuta è un evento fisiologico, perché l'infiammazione cronica non lo diventa più? Perché andiamo incontro invece a una sorta di mantenimento, l'infiammazione che non si spegne, quindi non va incontro a quell'autorisoluzione fisiologica, ma rimane attiva, rimane attiva a causa di una serie di fattori. Quindi, in buona sostanza, cosa succede? Che c'è un mantenersi attivo in maniera molto sottile per cui diventa non apparentemente visibile, cioè non c'è un'esternazione rapida e immediata, per cui mi accorgo che l'infiammazione non si è spenta. Quindi, sta lì il problema, che questa infiammazione rimane silente, rimane proprio di basso grado, cioè significa che lentamente va avanti nel nostro corpo, quindi tutti i meccanismi continuano ad andare avanti, e si esterna, nel senso che si tramuta in malattia o da segno di sé, da un punto di vista patologico, molto tardivamente. Possono passare anche 10-20 anni prima che io ho una manifestazione che può andare dalle cosiddette malattie non comunicabili, quindi dall'ubensità, l'ipertensione arteriosa, il diabete mellito di secondo tipo, piuttosto che anche la patologia oncologica, perché è un'acquisizione neanche troppo recente che il tumore o quantomeno la patologia oncologica sia una patologia di tipo metabolico, quindi che deriva da un'alterazione del nostro metabolismo e quindi figlia della cosiddetta infiammazione cronica di basso grado. È un concetto che è molto sottile, ancora poco è entrato nella realtà, nello studio del medico. Da questo punto di vista. Quindi Chiara, questa infiammazione cronica potremmo paragonare a una sorta di killer perfetto, perché inizia la sua strategia per ucciderti magari 20 anni prima, piano 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 è lì che sempre con la gocciolina di veleno giornalmente e poi quando hai magari 70 anni o 80 anni ti salta fuori questa cosa che può essere il cancro, può essere una malattia degenerativa, può essere... e dici ma cavoli mi è arrivata questa cosa qui e non ci si è accorto che magari l'hai covata per 20 o 30 anni questa... dovuto a questa infiammazione cronica. È così, è corretto? È corretto e ti dirò di più. Il trend è quello di una anticipazione di età. Se prima il diabete mellito, piuttosto che un quadro di ipertensione, quindi un rialzo importante della pressione arteriosa, si cominciava a riscontrare ecco da dopo i 50 anni a 60 anni circa. Adesso si sta andando in conto ad un'anticipazione, quindi anche soggetti di 40-45 anni cominciano a avere delle manifestazioni importanti e preoccupanti perché se consideri il 45enne e il 50enne è proprio nel pieno periodo florido, teoricamente da un punto di vista sia familiare che lavorativo e quant'altro, invece persone di 40 anni che già stanno con uno, due, tre farmaci e assumono cronicamente, quindi tutti i giorni, proprio per questo tipo di problematica. Per cui l'appannaggio è relativamente fascia di età da over 60 anni. Però il trend è quello di avere un'anticipazione di età di esordio, quindi di manifestazione ed è estremamente preoccupante. Quindi abbiamo capito che preoccupante è in aumento, è anche pericolosa proprio perché non la si vede. Esatto. E quindi le cause cosa potrebbero essere? Anche questo fatto che mi dici che sempre più persone, più diminuisce l'età di questo problema, mi viene subito in mente alimentazione, farmaci, sedentarietà, stress. Stress, di stress soprattutto. Abbiamo il grosso problema dell'alimentazione, perché purtroppo il concetto dell'alimentazione è un concetto estremamente sottile e tagliente, nel senso che per tanti anni ci hanno abituato a un certo tipo di alimentazione, ci hanno abituato, ci hanno impulcato il concetto che lo zucchero, il carboidrato, sia l'unica fonte di energia che non si può sopravvivere senza lo zucchero. E questo in realtà è vero, ma semplicemente perché il nostro corpo lo produce affinché l'equilibrio venga sempre mantenuto. Però non è, da un punto di vista di fonte energetica, l'unica fonte esclusivamente con cui noi possiamo sopravvivere. Invece c'è stato trasmesso questo concetto che il carboidrato è la fonte energetica per eccellenza e che invece i grassi, e quindi qui mi collego al colesterolo, al consumo delle uova, a un certo tipo di regime alimentare, ci hanno veramente dato un indottrinamento tale per cui la famosa dieta mediterranea viene considerata la dieta per eccellenza da questo punto di vista. I concetti in realtà stanno messi in maniera un pochino differente e il problema è che le manifestazioni poi da un punto di vista clinico sono quelle che ti fanno capire che le cose sono un pochino diverse rispetto a come ce le hanno trasmesse. Mi sorrido mentre mi parli perché mi viene in mente appunto mia madre che ogni tanto va a pranzo, a cena da lei e le dico diminuisci un po' con gli zuccheri, con queste cose e magari mi prepara allora e anche per se stessa la pasta asciutta, un bicchier di vino e tutte queste cose, e le dico ma vuoi che va a finire in zucchero? Com'è? Mica zucchero questa roba qua? Certo! Si pensa ancora che lo zucchero sia soltanto la zolletta, il cucchiaino di zucchero che si mette nel caffè magari, quindi... Sì, assolutamente! Infatti ci sta benissimo perché quando dico di non consumare lo zucchero ho detto no, no, ma io non metto lo zucchero nel caffè, non è solo quello! Perché ci manca l'educazione e l'alimentazione, questo lo posso dire perché almeno io sono Laura del 2006 e durante il percorso universitario dell'alimentazione non viene fatta minimamente menzione, cioè non c'è nessun tipo di attenzione rivolta al regime alimentare, allo studio dei macronutrienti, a capire il rapporto e di riflesso a osservare dalle analisi emati, dalle analisi del sangue, i vari indici che si possono in realtà osservare, capire effettivamente se ci sono già delle anticipazioni di alterazioni che poi porteranno magari all'evoluzione in un diabete mellito piuttosto che in un'altra patologia. Per cui ci manca, abbiamo un buco da questo punto di vista, un gap importante con tutta una mancanza di informazioni che ci permetterebbero invece di fare una buona educazione ai nostri pazienti e insegnare anche veramente quella che è la vera prevenzione primaria, cioè come riuscire a mantenerci in salute, che non è soltanto lo stato di non malattia, cioè stare in salute sotto tutti i punti di vista. Ma qui anche i medici hanno ancora un po' probabilmente da correre, no? Mio figlio ha studiato promozione della salute qui in Svizzera e poi aveva fatto uno stage anche in un ospedale e ogni tanto veniva a casa e mi diceva ma c'erano dei pazienti che hanno fatto questo intervento o soffrivano di queste malattie o visto cosa gli danno da mangiare mi sembrava che venissero avvelenati più che curati, no? Dice perché uno che deve recuperare che avrebbe bisogno certo lui si era anche un po' appassionato a questo tema però era abbastanza critico in un ospedale, no? Ecco, quindi Beh, io ti dico solo questo Enzo io ho lavorato come ti avevo accennato all'OIAO di Milano per quasi sette anni e lì dovrebbe essere la culla no? Della dell'attenzione nei confronti dell'alimentazione la culla proprio nel senso di prendersi cura del paziente anche da quel punto di vista e vedere di quelle cose veramente inenarrabili da un punto di vista di alimentazione poi la classica affermazione mangi qualsiasi cosa purché mangi puoi mangiare tu di tutto purché mangi cosa che è estremamente sbagliata è tipico, no? in passato mangiare un po' di tutto sì, un po' di tutto ascolta quali sono i sintomi diciamo precoci che una persona che ci ascolta potrebbe fare una riflessione e dire ma sta a vedere che anch'io magari ho ho questa cosa che mi porto dietro da un po' di tempo e magari non mi accorgo proprio non vado dal medico perché non mi sento malato ma di fatto l'infiammazione cronica potremmo dire è una malattia latente sì, sì, assolutamente il cosiddetto killer dicevi prima spietato silenzioso il killer perfetto è altrettanto perfetto perché è silenzioso di cui spesso non ti dà una un qualcosa di così una manifestazione così eclatante per cui vai vai dal medico e cerchi di curarti le manifestazioni sono estremamente subdole perché possono andare da una delle manifestazioni che sta specialmente da dopo il covid da dopo le le vaccinazioni per il covid che si è anche anche questo aspetto molto molto esasperato è la cosiddetta stanchezza cronica la persona il soggetto che anche la mattina che si sveglia che è stanco fa fatica magari a proprio fisicamente ad alzarsi e a avviare le sue attività in realtà è tutto un circuito che viene che viene innescato nel senso che viene da un certo punto di vista autoalimentato perché con il nostro stile di vita quindi con le nostre abitudini che vanno dal dal tipo di alimentazione quello che è in questo intendo dire il quantitativo di carboidrati che noi non ci accorgiamo ma che introduciamo giornalmente che è veramente tantissimo e che va non soltanto ad innescare ma autoalimentare questa infiammazione cronica per cui una delle spie è la stanchezza piuttosto che il famoso mal di testa del fine settimana piuttosto che comincia ogni anno la persona magari a prendere aumentare di peso quindi nell'uomo la classica pancetta piuttosto che la distribuzione nella donna che è un pochino differente ma quello che si osserva e che ti può riferire o che mi riferisce il paziente è che ogni anno aumento aumento di peso e quindi nell'arco di un 5-6 anni tranquillamente ho messo su 10 kg per esempio e questo non è un qualcosa di normale ed è legato proprio al fatto che questa infiammazione per cercare di semplificare è tutto il risultato di questa infiammazione cronica di basso grado che ci porta in un primo momento a quella che viene definita la resistenza insulinica cioè andiamo incontro a una incapacità dell'insulina di eliminare tutto lo zucchero che c'è nel sangue a causa del nostro introito smoderato ma perché è figlio di quello che ci hanno detto di fare perché se ti dicono che l'unica fonte energetica è lo zucchero che mangi lo zucchero che è sotto forma di legume di pane pasta pizza birra anche tutti i prodotti confezionati perché altro aspetto è la presenza suddola dello zucchero dei prodotti confezionati dei prodotti scatolati cioè ce ne sarebbe da dire da questo punto di vista per cui se siamo abituati a alimentarci in una certa maniera perché per 70 80 anni ci hanno detto di mangiare così poi ovviamente l'industria in qualche modo ci deve aiutare con i piatti pronti con i panini con tutto quello che ci rende ci semplifica apparentemente la vita perché noi negli anni a cosa siamo andati incontro anche a uno stile di vita un regime lavorativo estremamente stressante si lavora 10-12 ore al giorno si è sempre stressati nel senso proprio come atteggiamento come modalità di approcciare alla vita ai colleghi piuttosto che quindi dobbiamo vedere tanti fattori che preso singolarmente può avere un certo peso ma messi insieme hanno quello che viene definito effetto sinergico dove uno più uno più uno non è tre ma è quindici e venti e cento guarda quello che ho letto così che ci sono nel mondo più di due miliardi e mezzo di persone in sovrappeso abbondante o obesità quindi potremmo quasi dire che un terzo del mondo garantito soffre di infiammazione cronica ecco e poi moltissimi non dormono che probabilmente è un altro indicatore il tipico mal di testa di fine settimana come dici tu lo sento spesso il mal di schiena tutte queste cose che ecco mi fa proprio pensare che è una pandemia questa infiammazione cronica no poi noi diciamo le malattie sono il cancro sono arteriosclerosi sono questo ma forse facendo della corretta prevenzione a monte uccidendo noi il killer prima che il killer ci uccida uccida noi ecco sì 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 e noto che poi vabbè il sistema è tale non stiamo qui a fare perché non risolveremo nulla però questa pandemia di infiammazione viene spesso curata con un'altra pandemia di farmaci cioè è festa grande no assolutamente industria alimentare e per l'industria dei farmaci quindi dei farmaci sì beh la nostra lo dico in maniera scherzosa con i pazienti cioè da un esame dagli esami del sangue c'è l'asterisco ogni asterisco corrisponde a un farmaco purtroppo il nostro approccio veramente è diventato sintomo centrico e farmacocentrico quindi a qualsiasi cosa abbiamo il farmaco Chiara puoi spiegarci un po' meglio l'importanza che ho scoperto anch'io preparandomi dell'intestino perché se ho capito bene noi dovremmo quasi nutrirci immaginando che quell'intestino è poi il recipiente dove finisce tutta sta roba no? esatto che deve fare un lavoro della madonna a smistare ciò che deve buttare fuori ciò che deve buttare dentro cioè però non se ne parla moltissimo tutto sommato che ruolo ha l'intestino? l'intestino ha un ruolo è fondamentale viene adesso si parla adesso da un po' di tempo si parla del cosiddetto intestino come il secondo cervello qualcuno dice che si addirittura il primo cervello per la quantità di non soltanto di neurotrasmettitori ma proprio per la rete nervosa il sistema nervoso presente a livello dell'intestino l'intestino è e per l'intestino intendiamo tutto quindi si ha non soltanto la parte finale il colon ma anche l'intestino tenue quindi il cosiddetto grande e piccolo intestino tutto la parte relativa all'intestino è fondamentale e quello che si osserva a prescindere dalla patologia è che quasi la maggior parte nel 99 su 100 pazienti hanno delle alterazioni a livello intestinale e questo lo ritrovi in tantissime patologie quindi non solo la patologia oncologica di cui maggiormente mi occupo però anche prendiamo in considerazione il paziente con Alzheimer o paziente con il Parkinson o le macchie neurodegenerative ma anche banalmente il paziente con la fibromialgia o con artrosi quindi con uno spettro di patologie estremamente parecato hanno tutti problematiche di carattere intestinale vuoi che sia un albo come si dice alterno quindi periodi in cui sei stitico periodi in cui invece hai una evacuazione estremamente abbondanti piuttosto che hai quelle che sono delle telepoliti il colon irritabile i vari dolori i gonfiori piuttosto che sono tutte manifestazioni di un intestino che non sta più funzionando correttamente ora gli studi sono cominciano ad essere datati ma sono sempre in continuo aggiornamento per quanto concerne il concetto del microbiota cioè quello che popola chi popola il nostro intestino tant'è che viene messo in dubbio che siamo noi i nostri gli ospiti cioè i batteri in realtà sono quelli che ci ospitano in qualche modo un tempo si parlava di flora batterica no di fermenti lattici per la flora intestinale adesso il concetto si sta intensificando per via di alcune conoscenze sulla composizione quindi sia in termini di batteri a livello di funghi a livello di tante forme di popolazione e quello che viene fatto per esempio attualmente è lo studio del microbiota attraverso il prelievo di campione di feci quindi dalla volgarmente alla cacca sostanzialmente e si cerca di comprendere come siamo messi a livello intestinale perché la popolazione che c'è come è distribuita le varie famiglie le varie composizioni effettivamente hanno un ruolo che è fondamentale per mantenerci in salute e per star bene e le alterazioni che si osservano a livello intestinale sono poi tutto del nostro cattivo stile di vita per cui ha un'importanza che è fondamentale da questo punto di vista quindi cercando di riassumere e spiegarlo a chi non ha studiato il cibo viene masticato scende giù entra in queste tubazioni che sono le anse ecco quelle anse se lì c'è un buon microbiota che sono tutti questi piccoli microbi che ho letto sono alcuni chili addirittura tanta roba tanta roba e poi si specializzano perché se mangi tanta carne alimenti certi tipi di microbi se mangi tanti zuccheri altri tipi quindi gli fai prendere una tendenza sono come delle squadre come l'Italia o la Svizzera se vuoi però se a un certo punto tu hai nell'intestino qualche chilo in più di un certo tipo di microbiota ti chiede poi anche di essere alimentato per quello che ci sono poi anche delle dipendenze alimentari esatto e in più se ho capito bene le pareti dell'intestino possono non essere più belle sane ma integre esatto dei buchi delle interruzioni che lascia andare poi delle sostanze che non dovrebbero andare dentro nell'organismo nel sangue e lì si attiva la fiammazione perché il corpo dice c'è un intruso esatto che magari non è una roba da febbre però continua questo sistema immunitario a essere attivato ad essere stimolato tant'è che a volte l'iperstimolazione la continua stimolazione del sistema immunitario ti può portare anche all'innesco delle cosiddette malattie autoimmuni proprio per queste incapacità a un certo punto o del sistema immunitario o di frenare perché non riesce a eliminare la gente che ne stimola la continua attivazione piuttosto che c'è questa irrefrenabile attivazione quindi alla fine avere anche delle cosiddette malattie autoimmuni e il problema di questa interruzione di integrità si dice della parete intestinale che noi abbiamo lo stesso problema anche a livello cerebrale la cosiddetta barriera ematoencefalica che per intenderci è una sorta di spudo una protezione alla pari della barriera intestinale quindi immaginiamo proprio una serie in fila all'altra di cellule che creano una sorta di parete di barriera che deve proteggere in questo caso il cervello e a livello intestinale l'intestino succede che per quello che dicevi Enzo c'è proprio un distaccamento una si creano proprio delle vere e proprie fessure chiamate si perdono quelle che sono definite le tie junction quindi delle giunzioni serrate quindi anziché stare così la cellula comincia a distaccarsi e questo distanziamento porta proprio all'entrata di sostanze che non dovrebbero entrare e se pensiamo che il cervello è l'organo più nobile o quantomeno quello che deve essere più protetto in assoluto passaggio di sostanze pensiamo a sostanze xianobiotici piuttosto che alle radicali libri legati allo stress ossidativo tutte quelle sostanze che dovrebbero invece rimanere al di fuori vanno all'interno e autoalimentano questa infiammazione cronica quindi diventa veramente un circolo quasi perverso perché è proprio un qualcosa che si autoalimenta e si autosostiene fino a che ce la fa a un certo punto non ce la fa più va in tilt e si scatenano le malattie tra cui l'Alzheimer per esempio sì sì che è un'altra pandemia già in corso è bastante l'orizzonte sempre di più ma chi ci ascolta che ha 60 65 70 anni che ha un po' di pancetta ha un po' di tutte quelle cose che abbiamo detto prima cosa dovrebbe fare da subito per migliorare la situazione certo la capacità la costanza la coerenza il volersi bene soprattutto perché poi temo che magari un altro problema un'altra pandemia che non ci si vuole così bene vabbè magari ne parliamo dopo ma cosa dovrebbe fare chi si accorge che ha qualche cosa in ballo per cambiare direzione da un punto di vista alimentare quella che viene promossa come forma di alimentazione proprio antinfiammatoria quindi parliamo non di una dieta per perdere il peso che quello si avverrà perché è uno degli effetti di questo regime alimentare però in prima istanza è proprio un'alimentazione antinfiammatoria ed è l'alimentazione chetogenica quindi la cosiddetta dieta chetogenica adesso è abbastanza diciamo conosciuta come dieta dimagrante la dieta di mo che va un pochino di moda però c'è anche nella dieta chetogenica un pochino di confusione e quindi spero di riuscire a dare i concetti più importanti innanzitutto parliamo di un'alimentazione normo proteica perché la prima obiezione che viene fatta è che è una iper proteica ci sono dei regimi alimentari iper proteici ma chetogenica non è iper proteica quindi significa che l'introito di proteine poi ne parleremo è proporzionato al tipo di soggetto che intraprende questo regime alimentare quindi significa che viene calcolato sulla base indicativamente e del peso del sesso del tipo di stile di vita quindi se è una persona sedentaria piuttosto che in attività fisica quindi una serie di fattori che mi portano a calcolare il quantitativo di proteine che introduco quello che è significativo è il cosiddetto switch energetico cioè si passa dallo zucchero dal carboidrato come fonte energetica ai grassi quindi al macronutriente dei lipidi chiamati perché perché io devo produrre quelli che sono chiamati i corpi chetonici cioè una forma di energia che mi deriva dai grassi quindi capisci bene che andiamo praticamente a invertire quello che per anni c'è stato detto che soltanto gli zuccheri addirittura quanti prodotti al supermercato troviamo light senza grassi prodotti assolutamente dietetici e quant'altro tira via il grasso dal prosciutto cotto dal prosciutto cotto assolutamente l'indottrinamento ma è stato fatto veramente con tutti i crismi per cui invece andiamo in una direzione opposta ma noi in realtà non è che ci andiamo oggi sono conoscenze che in realtà ci sono da da tantissimi anni perché questo tipo di alimentazione innanzitutto nasce per la gestione e trattamento delle forme di epilessia soprattutto dei bambini farmacoresistenti e parliamo dell'epoca antecedente all'entrata in commercio degli antipilettici dei farmaci antipilettici quindi parliamo di svariati anni fa e effettivamente era l'unica alimentazione che veramente curava queste forme di epilessia farmacoresistenti poi da lì in realtà un pochino le conoscenze un pochino gli studi un pochino osservare che chi intraprendeva questo regime alimentare aveva poi una serie di benefici che vanno dalla cerco di semplificare e far capire il tipo di guadagno che al paziente pazienti che entrano in questo regime alimentare di chetogenesi di la chetogenica hanno un guadagno su tutte le manifestazioni per esempio infiammatorie quindi le cervicalgie il dolore alla cervicale dolori articolari diffusi il famoso mal di schiena la lombalgia pazienti che hanno la bontà di fare questo regime alimentare si vedono proprio sparire letteralmente questi dolori che sono delle spie di infiammazione cronica quelli che mi chiedevi prima le manifestazioni quindi dalla stanchezza cronica piuttosto a questi dolori che a un certo punto compaiono dal nulla piuttosto che il sonno il sonno comincia a diventare un sonno cosiddetto ristoratore quindi vai a riposare per riposare nel vero senso della parola al cervello quindi sicuramente una considerazione una riflessione che andrebbe fatta è cambiare lo stile di vita a cominciare dalla tavola quindi a cominciare da quello che una persona mangia per esempio quindi per fare un esempio la sera alle dieci e mezzo una buona pizza al prosciutto è proprio cheto genica assolutamente ho capito tutto pizza e birra assolutamente pizza e birra no serio cosa si intende perché cheto genica vuol dire il suo vocabolario vedere e comprarmi un libro vuol dire mangiare uova avocado carne esatto quello che la difficoltà sta proprio in questo perché quando propongo al paziente questo tipo di alimentazione inizio a spiegare che non deve mangiare certe cose mi dice ma io che mangio allora alla fine perché che mangio allora in pratica quello che bisogna fare è lì ovviamente è necessario avere un supporto del medico del nutrizionista perché deve essere ribilanciato proprio il tipo di sia in quantità che in qualità di alimenti quindi in sostanza che cosa andiamo a mangiare sicuramente le fonti di proteine che sono sicuramente di origine sia animale che vegetale però quello che devono essere accompagnate da una fonte di grassi intendo l'avocado l'olio di oliva le noci la frutta secca e la scelta anche dello stesso tipo di alimento deve essere una scelta curata perché il problema l'altro grande problema della nostra alimentazione è che molte fonti alimentari arrivano dalla grande industria quindi dalla grande produzione e lì entriamo veramente andiamo a scoperchiare un altro grande problema che riguarda la qualità del prodotto cioè le stesse uova lo stesso formaggio di qualità intendo che siano prodotti non dalla dalla grande industria perché nella praticamente la maggior parte di questi prodotti sono comunque contaminati da tante altre sostanze che non ci fanno assuramente bene la nostra salute quindi tornare un po' anche a curare la scelta che faccio dello stesso tipo di alimento e qua diciamo che diventa veramente difficile proprio perché riportare la persona ad una consapevolezza su che cosa mangia da dove arriva quello che mangia e tutto capisci che diventa estremamente difficile in una società dove ci mette tutto di corsa tutto di fretta dove dobbiamo essere super produttivi super efficienti e quindi darci il tempo invece di andare a cercare un certo tipo di alimento prodotto in una certa modalità è tutto e qui guarda io sono un appassionato di yoga meditazione queste cose quindi cosa ho scoperto cosa mi hanno detto chi ne sa più di me che ad esempio l'intestino ha tre funzioni da una parte deve cercare di capire cosa buttare fuori con le feci dall'altra parte deve capire cosa invece far diventare alimento per il sangue ma poi c'è una parte un po' misconosciuta un po' più per gli spirituali così via che è il prana che è una sorta di alimento per l'anima per la coscienza quindi quando noi mangiamo una mela ad esempio possiamo prenderne una che è stata tirata su in un congelatore in qualche serra così metterla in bocca mangiarla strozzarci giù oppure potremmo magari scegliere davvero un alimento biologico sentirne il profumo che è anche un'alimentazione mangiarla sentendo cosa stiamo mettendo in bocca apprezzando ringraziando per quello che ci dà come nutrimento allora anche questo ha un effetto placebo nel senso impositivo cioè la scelta l'amore anche come si cucina e c'è questo alimento in più che secondo me è anche importante dà gioia alla vita ma sicuramente fa anche del bene assolutamente assolutamente infatti l'altra l'altro aspetto quando mangiamo una masticazione lenta lenta ma non perché devi devi farci mezz'ora ma perché devi assaporare quello che mangi e devi dare tempo al corpo di assimilarlo sì 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 assolutamente Chiara ci sono dei test per misurare l'infiammazione allora io non lo so non l'ho mai fatto però sto bene però potrei venire da te e dire guarda voglio escludere che ci sia il killer da qualche parte c'è un test allora più che un test ci sono sicuramente degli esami ematici quelli cosiddetti di routine ai quali però aggiungere alcuni alcuni parametri da misurare che non che non rientrano in realtà nella routine nella pratica medica che ti permettono di avere una visione un pochino generale e mi spiego meglio accanto al classico esame emocromo citometro quindi vai a osservare l'emoglobina la conformazione dei nostri colabuli rossi e quant'altro che è uno degli esami più utili più eseguiti andiamo a misurare per esempio gli indici di infiammazione la cosiddetta VES e la PCR per esempio che sono due spie di infiammazione quindi una sottile alterazione di questi parametri potrebbe darci già un'indicazione di qualcosa che non sta funzionando magari pienamente a fronte poi di un'apparente salute che non ho manifestazioni piuttosto che vado a osservare tutta la funzionalità relativa al metabolismo glucidico quindi vado a studiare e vado a osservare la glicemia vado a osservare l'emoglobina glicata l'insulina che sono dei parametri ematici semplici nel senso che non implicano delle laboratori speciali o cose cose particolari quindi sempre tramite un prelievo del sangue però io riesco andando a osservare in che il numero e quindi all'interno di un range tra un valore minimo e un valore massimo e facendo alcuni rapporti riesco a capire com'è la mia situazione dal punto di vista metabolico così come il famoso colesterolo che sotto sotto il 200 adesso 190 scatta la statina occhio perché il colesterolo in realtà ci fa bene e ci serve soprattutto quindi la tendenza a cui stiamo assistendo è quello di avere un progressivo abbassamento del range del colesterolo per cui il colesterolo totale se quando studiavo io nel 2000 2006 fino a 250 era considerato normale adesso sotto 190 viene considerato normale quindi capite bene che già un 220 scatta il farmaco scatta subito il lipo che ho il lipo colesterolo problemizzante fatturati bravissimo uno poi diventa complottista ma non è complottista diciamo che osservi osservi una serie di condizioni come l'altra l'altra cosa importante che attenzione stanno abbassando il livello del colesterolo totale stanno aumentando il limite massimo della glicemia per cui se ripeto quando studiavo io 90 95 di glicemia era già una spia di una fase iniziale di resistenza insulinica adesso questo limite è stato portato a 110 ma a 110 è già farsi un pre-diabete per cui è una situazione dove io ho già un'infiammazione cronica che ha lavorato e che sta lavorando per esempio per cui questi piuttosto che adesso si sta cominciando anche a dare un pochino più importanza anche in termini di esecuzione di esame di laboratorio alle citochine per esempio e quindi esistono dei test salivari che sono abbastanza attendibili dove quindi attraverso un prelevo di saliva vengono studiate una serie di citochine che sono dei messaggeri che noi abbiamo nel corpo e che hanno una funzione proprio di trasmettere il messaggio e che si attivano in determinati contesti durante il covid durante la pandemia del covid abbiamo sentito parlare della tempesta citochinica di questa interlochina 6 che si attiva e che rimane alta per tanto tempo ed è una delle manifestazioni di infiammazione quindi diventa qui si va un pochino fuori perché diventa un esame fuori da quelli classici di routine che vengono prescritti dal curante però alcuni laboratori sono attrezzati per poter fare questo tipo di esame ad esempio alcuni 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 test ce li abbiamo sostanzialmente io sono anche abbastanza un appassionato ogni tanto li faccio questi test proprio anche per capire la mia età biologica per esempio se ci sono degli stati infiammatori o così tra l'altro l'infiammazione cronica ho letto è un potente elemento che ci fa invecchiare prima del tempo precocemente precocemente quindi al di là di tutti i libri tutte le cose che si possono fare per cercare le creme per rimanere giovani ma magari trattare bene il proprio intestino cercare di nutrirsi in un certo modo e di non attivare l'infiammazione cronica ci permette di vivere un po' più a lungo un po' più sani un po' più felici un po' più con la mente anche e la schiena a posto ecco la domanda che vorrei farti e che magari ti mette un po' in difficoltà ma come fa un sessantenne un sessantacinquenne che ha il suo medico da 20 o 30 anni che lavora secondo i suoi cani canoni da medico e il colesterolo è così prendi sta a incontrare qualcuno che si occupa davvero di un corpo mente spirito cioè un po' un approccio ce ne sono tante come la tua come la clinica CLEAN ce ne sono tante di queste realtà è possibile incontrarle? allora è possibile incontrarle ti direi che si sta cominciando un pochino a dare attenzione allora passo indietro la medicina ufficiale non contempla questo tipo di attenzione non contempla la prevenzione primaria perché poi rientriamo un po' in quella che è la prevenzione primaria noi siamo abituati e indotti a costivare la prevenzione secondaria quindi a fare una serie di esami che vengono molto pubblicizzati e sbandierati di prevenzione ma che in realtà sono tipo secondaria come prevenzione cioè si va ad intercettare l'anomalia ma che si è già sviluppata quindi quello che dovremmo riuscire a fare è lo step precedente cioè mantenersi in una condizione dove la cellula non cambia non muta non si trasforma quindi quella è la vera prevenzione e il problema è che la medicina ufficiale non ha degli strumenti non ti dà delle possibilità proprio perché abbiamo questo approccio di andare dal medico solo quando c'è un problema ora teoricamente dovrebbe dovremmo tornare a comportarci un po' come anticamente facevano i medici cinesi ma ovviamente qui entriamo in un concetto utopistico che non è praticabile quindi quello che bisogna fare è informarsi da questo punto di vista cioè fare una cultura ora non che voglia con questo dire che bisogna lavorarsi in medicina capisco perfettamente che l'idea è assolutamente folle però non è folle il fatto di essere aggiornati essere informati essere curiosi cercare di capire realmente un po' come stanno le cose quindi farsi una propria cultura in qualche modo in un mondo ideale ci dovrebbe essere un rapporto di fiducia col proprio medico specialmente parlo del medico curante che fino a poco tempo fa era un po' la persona che ti conosceva abbastanza nel profondo e quindi riusciva a darti anche dei consigli da questo punto di vista quindi il consiglio è quello di comunque di iniziare a farsi un po' un percorso di acquisizione di alcune consapevolezze poi i centri in realtà stanno nascendo poi sulla centri di medicina rigenerativa medicina anti-aging piuttosto che effettivamente ce ne sono tanti come ci sono tanti categorie di integratori che è un altro capitolo estremamente importante il dilagare di tante forme di integrazione che anche lì bisognerebbe avere un approccio un po' autocritico su realmente cosa abbiamo bisogno però per tornare un po' al discorso di prima strutture in realtà cominciano a nascere la struttura dove lavoro io ha sicuramente un po' questo tipo di prerogativa di avere un approccio dove è possibile multidisciplinare ma soprattutto un approccio integrato ovvero non essere talebani nei confronti della medicina ufficiale per cui la necessità del farmaco non viene negata però vengono dati anche degli strumenti per poter fare appunto la prevenzione primaria piuttosto che utilizzare delle strategie per riuscire a mantenersi in salute senza necessariamente ricorrere al farmaco quindi quello sì ricordiamo ricordiamo magari chi ci ascolta che la medicina olistica non è in contrapposizione alla medicina classica anzi la medicina olistica contiene anche la medicina classica perché se ti rompi una gamba per forza vai metti il gesto e così via quindi non è che uno esclude l'altro anche se cercato in qualche modo di metterle in contrapposizione di dire no 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 invece un approccio un po' più olistico è anche un approccio dove ognuno si prende un po' la responsabilità perché noi sappiamo benissimo e io che sono un coach e lavoro a forza proprio con la mente delle persone cerco di dare dei consigli come far lavorare bene la mente la responsabilità personale è già il primo passo nella giusta direzione sono io che mi occupo di me stesso sono io l'artificio della mia salute o della mia della mia vita poi posso prendere i consigli ma devo un po' informarmi anche no infatti assolutamente io ho creato longevity facendo il verso a responsibility perché responsibility vuol dire abilità di risposta e longevity sta proprio per l'abilità di vivere a lungo ma in un modo sano saggio e più felice possibile per chi non l'ha comprato dico andate a comprare il mio libro che è qua perché ci sono degli spunti interessanti ho due domandine perché cavoli è così bello chiacchierare ogni anno io mi faccio un digiuno di alcuni giorni e mi sembra una buona cosa per dare una sberla al killer e il digiuno è una una pratica terapeutica estremamente interessante ci sono varie forme di digiuno quindi si riescono ad accontentare un po' tutte le possibili esigenze di ciascuno di noi nel senso che si va dal digiuno programato dall'igienismo per esempio una corrente medica che tuttora esiste sicuramente ha visto un periodo florido negli anni 20 del secolo scorso però per dirvi come il digiuno veniva considerata una pratica terapeutica a tutti gli effetti perché è un modo innanzitutto per risvegliare il nostro metabolismo per eliminare per fare proprio un lavoro di eliminazione di disintossicazione da tante da tante schifezze passami il termine da tante sostanze che abbiamo accumulato nonché per esempio per chi vuole avviare una dieta chetogenica potrebbe essere anche un modo per accelerare l'entrata in chetosi 72 ore di digiuno per esempio aiutano il corpo a eliminare tutti i depositi di zucchero e a indurre il corpo a produrre i famosi corpi chetonici che sono diventeranno poi il nostro carburante piuttosto che esistono anche delle forme di digiuno detto intermittente dove io nell'arco delle 24 ore mi alimento mi nutro per circa 8 ore lasciando le altre 16 ore sfruttando le ore notturne lascio il corpo in pace tra virgolette e e consento di fare una sorta di washout di pulizia per esempio per cui spesso consiglio di saltare la cena quindi fare una colazione mangiare fino indicativamente mezzogiorno le 14 e poi stare a riposo fino al mattino dopo sostanzialmente piuttosto che un'altra forma di digiuno che viene che può essere magari una una partenza le cosiddette 12 12 quindi io mangio a colazione e poi ho un fermo alimentare fino alle ore 20 e cerco magari di avere questo tipo di impostazione poi su quante volte farlo sulla periodicità della della pratica lì va molto contestualizzata a seconda non soltanto del sesso quindi se è un uomo o una donna piuttosto se affetto da una patologia quale patologia se si è in terapia con alcuni farmaci quindi poi lì diventa sicuramente una pratica che va un pochino più più seguita però assolutamente si ha un grandissimo fa un grandissimo aiuto ci dà un grandissimo aiuto continuerò allora sì assolutamente allora innanzitutto voglio dire a chi ci ascolta che metterò in descrizione anche il link della clinica CLIM così chi vuole entrare in contatto con te per una consulenza per una può farlo penso che assolutamente ben volentieri io vorrei finire dicendo che all'inizio abbiamo detto che la salute deve essere sia dal punto di vista fisico mentale e anche spirituale e io ci tengo tanto a far comprendere alle persone che mi seguono che se non c'è un perché non si trova mai un come allora qual è il perché della nostra esistenza perché viviamo perché siamo qui chi siamo domande che potremmo fare 15 giorni di intervista però la ricerca spirituale è proprio questo farci farci queste domande sapere perché siamo qui io l'ho scritto in questo libro ho l'impressione che siamo qui per sviluppare coscienza per evolvere e quindi se vogliamo fare questo utilizzare bene anche l'età avanzata quando dovremo 70 80 90 100 anni pensa che bello a 100 anni o 120 anni però essere sereni ancora aver posizionato il corpo nel posto giusto la mente nel posto giusto e dare più spazio a questa parte della coscienza dello spirito e il corpo ci sostiene perché è sano ed è felice questo è il mio auspicio per tutti quelli che ci seguono di voler anche in qualche modo confrontarsi con le domande profonde della vita la spiritualità perché questo dà senso e dà voglia di mantenersi in forma e di avere un approccio olistico non soltanto sopravvivere per comprarsi l'auto o per fare la crociera o quelle cose lì o l'orologio di marca esatto assolutamente grazie mille dottoressa Chiara Liberati mi ha fatto un grandissimo piacere e ecco sarà alla prossima si dice alla prossima grazie buon lavoro grazie mille grazie mille saluto a tutti